benvenuti alla terza lezione di samsung maestros academy vi parleremo ora di tutto il lavoro di ricerca che sta dietro la creazione dei veicoli tangente tutti i nostri veicoli nascono da ispirazioni storiche l'ascot sport per esempio è un telaio doppia canna e si rifà alle moto degli anni 20 il colore delle moto di quel periodo era un rosso bordeaux particolare e abbiamo riprodotto fedelmente il colore il pantone di quel modello di moto di successo la forcella per esempio è ispirata alla forcella springer con doppia molla doppio arco con cuscinetti sulle biellette di ammortizzazione il campanello in ottone ricavato dal pieno unico in tutto il mondo perché è stato fatto su disegno nostro tutte le nostre biciclette sono dotate di un orologio posto al centro del manubrio facciamo realizzare i pneumatici con un pantone esattamente uguale alla borsa che ricopre la batteria tutti i fanali sono di derivazione motociclistiche con lampadine a led sono collegati ad un crepuscolare che quando viene sera si accendono automaticamente un altro grande patrimonio dell'azienda è il database dei fornitori tutti i nostri fornitori sono certificati iso 9001 e sono presenti sul territorio bolognese salvo alcuna eccezione per esempio i parafanghi dove il nostro fornitore di riferimento è ad assago fincino milano che produce parafanghi dal 1922 quindi anche l'esperienza è una qualità molto importante che ricerchiamo nei nostri fornitori la pelle è rigorosamente italiana l'italia infatti gode del primato mondiale a livello di qualità della pelle le molle sono fatte dalla bomol di sant'agata bolognese sotto nostro disegno e nostre indicazioni altro fornitore storico della nostra azienda è la verniciatura bolognese di zola predosa che fornisce tutti i maggiori costruttori di motocicli nel territorio le selle sono prodotte in inghilterra dalla famosissima brux leader mondiale nella creazione delle selle di tipo vintage ma tecnica e design non sono tutto cerchiamo anche competenze artigianali di un tempo lavori che quasi stanno scomparendo sul nostro territorio che però danno al nostro prodotto un'immagine unica in tutto il mondo è il caso per esempio delle filettature che vengono realizzate manualmente dal maestro artigiano gigi che a 84 anni è in grado di compiere vere e proprie opere d'arte dal sapore vintage come produceva negli anni 40 o 50 in piena attività si conclude così la terza lezione di samsung maestro saccarmi nella prossima lezione vi parlerò di come tutti i nostri sforzi messi in campo fino a oggi si concretizzeranno su un prototipo che sarà l'anteprima della produzione del prossimo veicolo grazie a tutti